Buongiorno a tutti, proseguendo nell'analisi dell'esperienza italiana nella primavera del 1941 nei Balcani oggi voglio leggere un brano tratto sempre dal diario di Bottai 1935-44 che è concentrato proprio sui giorni di metà aprile in realtà appunto era un video che volevo fare da un paio di giorni poi dopo ho avuto altri inconvenienti, ho fatto altre cose e quindi recupero oggi questo video che va a leggere alcuni passi del 9 e dell'11 aprile del 1941 Bottai come sappiamo è in Albania, comanda un reparto e vede in maniera anche sin troppo evidente l'impreparazione tutte le difficoltà che vi sono all'atto pratico sul campo che sono figli di queste difficoltà, di tutta una serie di manchevolezze, di ritardi, di omissioni dovute a tutta una serie di decisioni sbagliate in ordine politico, politico militare, politico organizzativo e qui così dice il 9 la marcia prodigiosa dei tedeschi che ieri sera erano a Tetovo in direzione del confine albanese nel Dibrano fa precipitare gli eventi eccetera eccetera come sempre avvenuto tra esercito e forze regolari non corre buon sangue con lo scopo di congiurgersi con i tedeschi c'è un tentativo da parte degli italiani di congiurgerci con i tedeschi una serie di formazioni italiane come sempre avvenuto tra esercito e forze regolari non corre buon sangue e il mio compito è soprattutto di garanzia politico morale anche in questo campo naturalmente si arriva tardi improvvisando ciò che di lunga mano avrebbe dovuto prepararsi per ottenere la compartecipazione degli albanesi a questa guerra che intellettuali e signorotti con mire diverse molto molto desiderano ieri sera tardi sono rientrato e ho visto anche Galeazzo Ciano e Sandro Pavolini, Renato Ricci è partito per andare a congetarsi dal suo reggimento e sarà qui tra qualche giorno Dino, grandi, è in attesa di avere territori da governare si dimostra seccato di un compito che teme lo tenga lontano anche a guerra finita strani giorni in cui ho una sola felicità quella di avervi fatto tranquilli per me vedo la vita di dopo moralmente tanto difficile le che avrei preferito seguitare e accimentarla nei rischi aperti e le ali del combattimento ecco qui c'è tutto un discorso anche di contrapposizione tra tutta una serie di gerarchi che vedono nelle campagne del fascismo come un momento di parentesi rispetto ai propri impegni romani e guardano a queste occasioni soprattutto Ciano lo sappiamo benissimo come occasione per guadagnarsi qualche medaglia per poi tornare con il petto sempre più colorato nelle proprie competenze ministeriali di Roma 11 aprile scusate se si fosse provveduto in tempo ma quando mai arriveremo in tempo si sarebbe potuto determinare un modo imponente che avrebbe avuto oltre il suo notevole effetto pratico il merito di fare partecipare moralmente e storicamente questo popolo alla nostra guerra parla degli irregolari albanesi parla di tutta una serie di realtà di posizioni di opportunità che sono state mancate per tante incapacità di riuscire a inserire a metabolizzare anche un certo discorso che poi siano velletari anche da parte di Bottai questo è indiscusso però evidenziano nella propria funzione di grillo parlante del regime un elemento di studio di riflessione molto molto importante ma noi arriviamo immaturi a questi problemi con una visione troppo nazionalistica e territoriale delle guerre senza un'ancora consapevole visione imperiale è grave che nel 1941 ancora si dica questo nel 1941 come ben sappiamo stiamo perdendo l'impero in Africa orientale e queste considerazioni di Bottai evidenziano veramente una grandissima amarezza e intanto i tedeschi fanno la prodigiosa avanzata c'è da rotersi il fegato ecco quindi come la riflessione lo sconforto di Bottai in questi momenti emerga sempre più vivido perché evidenzia anche la contrapposizione netta che vi è all'interno dei gerarchi e dove vi è un'accusa molto feroce molto poco malcelata nella grande astio nel grande recriminazione nei confronti di personaggi come Chan appunto che hanno invece visto e vedono ancora il proprio tornaconto personale la propria affermazione come vice duce come pupillo come possibile alternativa anche vedendo un certo gradimento nella corona la possibilità appunto di modernizzare di fare quel secondo passo che però inevitabilmente nonostanto Ciano si sia sempre più distaccato e si distaccherà sempre di più dall'alleato tedesco questa alleanza è sempre vista con grandissima diffidenza è una grandissima diffidenza che crescerà di mese in mese ancora il ricasco lo vedremo ancora per almeno due anni due anni e mezzo il ricasco nei confronti delle vittorie tedesche e l'Italia che si trova sempre a traino e allo stesso tempo si crea il traino perché appunto i tedeschi almeno all'inizio non avevano chiesto nulla nella partecipazione in Russia e invece l'Italia Mussolini decide di mandare prima un corpo d'armata e poi addirittura un'armata e questo comporta se da una parte un tentativo di trovare credito dall'altra sminuisce e mortifica ancora di più le magrissime capacità politico-militare dell'Italia che deve badare alla realtà africana che va sempre peggio la realtà dei Balcani che comunque non migliorerà nonostante appunto il rasserenamento generale della politica generale almeno ufficialmente nella prima guerra del 1941 è tutto ciò che comporterà appunto con l'ingresso e la delegazione di guerra all'Unione Sovietica e poi agli Stati Uniti d'America quindi ecco come è interessante questa analisi come appunto siamo nell'aprile del 1941 e Bottai continui a dare questi segni di grandissima insofferenza e dei segnali di sfiducia e di tentativi ultimi ma molto amari molto contraddistinti da uno sconforto di non essere in condizione di poter portare Mussolini o tutta la serie di suoi colleghi gerarchi a una riflessione anche all'ultimo momento non ci si riesce si saprà come alla fine si arriverà al 24 25 luglio il 43 ma proprio lì siamo veramente oltre qualsiasi possibile tempo supplementare come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao